Montesilvano sarà la sede delle iniziative previste per la chiusura del lavoro delle giurie popolari del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli. Un evento diviso in due parti ma che torna in presenza dopo due anni nei quali la manifestazione si è tenuta in video a causa delle prescrizioni dovute alla pandemia. Il primo evento di Montesilvano avrà luogo giovedì 26 maggio con inizio alle 10 nella sala Abruzzo del Paladin Martin. Siamo molto felici e onorati di ospitare l'assemblea finale delle giurie popolari di questo prestigioso premio che fa tappa quest'anno a Montesilvano. C'è una sinergia peraltro tra Montesilvano, quindi una regione costiera, e Pescassero, una regione di montagna e questo rende il tutto ancora più affascinante a dimostrazione che il nostro territorio sinergicamente unito può davvero dare tanto. In questo caso si parla di cultura e noi siamo molto felici perché la cultura è un elemento davvero molto importante per un territorio e quindi avere questa bella iniziativa sul nostro territorio, peraltro con la collaborazione anche dell'Istituto Alessandrini di Montesilvano, rappresenta qualcosa di davvero importante. Questo è un premio prestigioso, lo abbiamo detto, di carattere internazionale, ma anche come amministrazione stiamo portando avanti, da iniziato lo scorso anno, la prima edizione, ci sarà una seconda edizione di un festival letterario, oltre alle parole che abbiamo proprio costituito qui a Montesilvano, istituito qui a Montesilvano, a dimostrazione di quanto la cultura e l'arte vogliono in qualche modo essere presenti e debbano essere presenti sul nostro territorio.